Al terzo posto abbiamo Scorpion Bay, al secondo posto abbiamo MoMA e Suspense and the winner Fresche di questo riconoscimento, un team di donne che ha il cuore e la sede in Val Seriana ma che vende online quindi l'innovazione e la comunicazione vi ha premiato quest'oggi qui a Villadogna Raccontaci un po' chi siete e che cosa fate? Allora, sono all'inizio un'azienda che lavora a Kashmir da più di 40 anni, non io ma mia madre e Betty è la mia commercialista, parlando dei problemi che c'erano in azienda come tutte le aziende abbiamo pensato di iniziare un nuovo progetto, un progetto femminile, un progetto dove volevamo valorizzare le donne del nostro territorio che ce ne sono veramente tante, ve lo garantisco, brave con tanta voglia di lavorare. Speriamo di riuscire a dare lavoro a queste persone e di portare avanti tutto questo Fiocco di Neve ha vinto oggi la Volpe d'Argento di Promo Serio in questo quinto workshop vi siete distinte perché fare comunicazione per voi è importante per riuscire a lavorare come vanno queste campagne online? Beh, diciamo che il primo problema era come fare a far conoscere il marchio Mirella De Mori e il nome Mirella De Mori e quindi il fatto di usare quella che è tutta la capacità che il web ha era la modalità primaria. Poi ci siamo concentrati su quella che era portare il brand dal livello locale ad un livello più territorialmente più ampio e anzi sinceramente noi abbiamo partecipato a questo concorso proprio per questo motivo perché questo l'abbiamo ritenuto uno delle modalità per poter promuovere il nostro brand e quindi fare comunicazione. Quindi da questo punto di vista queste tipi di attività e di manifestazioni sono fondamentali È stato difficile dare questo voto, dei punteggi davvero molto vicini. Come avete fatto a decretare il vincitore di questa Volpe d'Argento 2016? Sì, è stato difficile perché erano tutti molto vicini per alcuni aspetti in modo particolare quella della parte precedente che ha pesato per il 75% e oggi abbiamo valutato la comunicazione come hanno espresso a livello personale come hanno esposto le presentazioni in PowerPoint, materiale preparato e la congruenza tra il progetto presentato e i contenuti che poi sono stati esposti abbiamo fatto un solito valutazione coerente con quella della prima parte da 1 a 5 quindi è sufficiente e eccellente per ognuno dei criteri e la differenza è davvero 0,05 tra il terzo e il quarto e 0,05 tra il secondo e il terzo quindi la soddisfazione è proprio quella di vedere e voglio fare i complimenti a Promo Serio a tutte le persone dal presidente Fratta al dottor Bettera con cui mi sono interfacciato in questi giorni perché è uno strumento molto importante per far conoscere quanto di valido viene fatto nella vostra, nostra valle seriana Un workshop sicuramente gratificante ma concentriamoci anche sulla parte più istituzionale di assemblea i numeri che porta Promo Serio, che ha portato oggi alla visione dei soci sono sicuramente dei numeri molto interessanti e che confermano che il lavoro sta andando sulla strada giusta Sì, siamo molto orgogliosi del bilancio che abbiamo presentato oggi che presenta una crescita molto molto significativa sul 2014 non vi è dubbio che nel 2015 ci sia stato l'evento di Expo che ci ha visto protagonista di bandi, finanziamenti e altre attività che quindi hanno catalizzato risorse ma è altrettanto vero che si denota una crescita dell'89% sull'anno precedente che dà comunque un segnale di forte crescita per noi tanto più se lo misuriamo sugli investimenti che abbiamo dato vita nel corso dell'anno scorso il 64% del totale, quindi del fatturato di Promo Serio è andato in investimenti e soltanto un terzo invece ha la spesa corrente cosa vuol dire? Vuol dire che le risorse che dreniamo e che comunque abbiamo a nostro, diciamo che possiamo gestire in qualche misura vengono per la stragrande maggioranza utilizzate per la promozione del territorio e qui parliamo di risorse interessanti intorno ai 600 mila euro di attività promozionale oltre a quelle che abbiamo ottenuto grazie a Valseriana Attraction che in realtà è cofinanziato da Promo Serio ma ha una grandissima parte di risorse che arrivano dalla regione Lombardia quindi possiamo dire che davvero quasi un milione di euro di risorse sono state impegnate sulla promozione del territorio della Valseriana Valdiscarbo e questa è la grande soddisfazione così come la soddisfazione di aver avuto un'assemblea folta ricca di persone con tutte le compagini che più ci interessano del territorio quindi vale a dire la scuola, il credito bergamasco vuol dire le amministrazioni, gli operatori, le imprese che sono state protagoniste ancora una volta la squadra la percepiamo, la percepiamo sempre più forte abbiamo percepito anche la presenza delle autorità cosa altrettanto importante quindi direi un workshop sicuramente ben riuscito grazie 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 grazie